Siamo perché ci sia lo stupro come crimine europeo, significa che non è nell'elenco dei reati europei. Questa è una cosa gravissima, perché è un reato che coinvolge tutto e tutti. E bisogna avere un impegno dell'Unione Europea, ma come l'Unione Europea è sempre avanti su queste tematiche, sui tematiche dei diritti e non c'è lo stupro.